Il famoso dating show Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, continua a stupire il pubblico italiano dopo più di vent'anni di trasmissione. Durante le registrazioni del programma si è verificato un evento senza precedenti, che ha scosso l'intero studio e ha fatto discutere il pubblico a casa. Il protagonista di questo episodio clamoroso è stato Mario Cusitore, un cavaliere del trono over, la sezione dedicata ai partecipanti più maturi. Il suo gesto, mai visto prima nella lunga storia del programma, ha generato una valanga di reazioni e commenti sui social media e tra gli appassionati dello show. L'accaduto, di cui non si conoscono ancora tutti i dettagli, promette di essere uno dei momenti più discussi della stagione. Gli spettatori sono in trepidante attesa di scoprire cosa abbia spinto Mario a compiere un'azione così eclatante e quali saranno le conseguenze per lui e per gli altri partecipanti del dating show. Uomini e donne si conferma ancora una volta come un programma capace di catturare l'attenzione del pubblico, grazie alla sua capacità di creare dinamiche inaspettate e coinvolgenti. L'abilità di Maria De Filippi nel gestire situazioni imprevedibili sarà certamente messa alla prova da questo nuovo sviluppo. Mentre cresce la curiosità intorno a questo evento straordinario, non resta che attendere la messa in onda dell'episodio per comprendere appieno la portata di quanto accaduto e le reazioni di tutti i presenti.